Ci troviamo nel panificio Cacioppo, dal 1931, un'esperienza che dura da tre generazioni. Con noi, Lilli e Bardo, che ci descriveranno cosa presentano alla Notte del Gusto. Salve a tutti, noi saremo presenti sabato alla Notte del Gusto con una delle nostre specialità, che è il trancio di pizza siciliana, fatto con ingredienti semplici e genuini del nostro territorio. In questa occasione comunque abbiamo scelto di presentare questo prodotto con un grano particolare, il grano rostello, chiamato così appunto per la colorazione rossastra, e poi comunque con gli ingredienti che sono presenti nel nostro territorio. Il mio fratello adesso vi elencherà. Salve a tutti, per questa occasione, appunto come diceva mia sorella, abbiamo scelto di utilizzare un grano particolare, un grano rostello, chiamato così e prodotto per la sua colorazione rossastra. È un grano che appartiene alla famiglia dei grani antichi. L'impasto è molto semplice, in quanto ha ingredienti appunto molto semplici. Partiamo dalla farina, acqua, lievito, sale e un filo di olio extra-regine di oliva delle nostre terre. Per i condimenti da sempre noi cerchiamo di utilizzare il meglio che ci possa offrire il nostro territorio. Partiamo dalla polpa di pomodoro, le cipolle di partanna, dal formaggio, le acciughe del mare di sciacca, e l'origano, tipico appunto delle nostre terre. E poi, è immancabile, un filo di olio extra-regine di oliva. È un peccato che non possiate sentire il profumo che fa, quindi se volete assaggiarla e venite numerosi sabato, e spediamo! Alla prossima! Grazie a tutti.